Si uniscono sempre più realtà all'iniziativa voluta dal sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato tesa a sensibilizzare la cittadinanza dopo gli episodi di cronaca che hanno interessato la città tra spari contro bar, bombe esplose nella notte contro negozi ed abitazioni insieme alle risse tra giovani. Le associazioni del territorio hanno garantito adesione, sostegno e partecipazione al corteo che avrà inizio domani pomeriggio alle ore 17.30 con partenza da piazza Municipio. Associazioni che condividono un'azione comune di mobilitazione ed un percorso formativo per gli obiettivi di difesa della legalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ad avviare sin da subito a partire dalle prossime settimane. Ieri sera nell'aula consigliare del comune di Nocera Inferiore si sono ritrovate con il sindaco Maglio Torquato e gli assessori Federica Fortino e Sarascione diverse associazioni del territorio CGL Salerno Camera del Lavoro Nocera, Cisalfiadella Agro Nocerino Sarnese, Ampi Nocera Inferiore il presidio di Nocera Inferiore di Libera, Acquamunda per il Sarno che verrà, Ridiamo vita al Castello, Urbe Nocera, Arci, Cooperativa Giovanile, Carbon Negative, Potere al Popolo Agro Nocerino Sarnese, Protezione Civile Comunale, Protezione Civile Noi Con Voi, Club Universo, Etrurea, Archeoclub Nocera Alfaterna, Scout Nocera Inferiore, Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione Nocera, Associazione Nazionale Marina e d'Italia, Sezione di Nocera e l'Associazione Polizia di Stato. Grazie a tutti.